Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dove mi è arrivato di nuovo un pacchettino più che arrivato l'ho comprato di Skin Labo e che sia una nuova promo interessante perché era un prodotto che non ho ancora mai avuto il piacere di prendere e di provare non vi giro la scatolina perché dall'altra parte c'è la spedizione con tutti i recapiti però se faccio così dove copro il tracking code e tutti gli indirizzi vedete che sopra il mio medio c'è un logo di un corriere differente hanno usato TNT questa volta e non più GLS con un euro di differenza sulle spese di spedizione perché sono i soliti prodotti dove non si pagano i prodotti quindi il valore in sé per sé dell'oggetto che andate a richiedere ma solo le spese di spedizione e sapete che di Skin Labo praticamente mi sto facendo su quasi tutta la loro linea facendo proprio questi acquisti dove risparmio diciamo anche o la metà o due terzi del valore del prodotto effettivamente. Per la prima volta abbiamo un costo che è di 8,90€ di solito con Skin Labo ho sempre speso 9,90€ con GLS se vi devo dire il rapporto prezzo con l'abbonamento della mia azienda che comunque come primo corriere ATNT un pacchettino di questa entità costa di solito 5,10€ massimo 5,90€ più IVA quindi ci siamo tutto sommato c'è qualche misero guadagno secondo me da parte dell'azienda forse essendo anche un nuovo corriere devono capire un po' i volumi spero che riescano ad abbassare perché TNT ha dei prezzi concorrenziali detto questo mi era arrivato per sms perché da quando ormai fate parte di questo mondo se non vi arriva tramite mail vi arrivano anche delle novità tramite sms ho ricevuto la promo per richiedere un prodotto per i capelli e ne ho bisogno perché comunque ho finito quelli che avevo a disposizione sia in mini taglie che in full size ed è un serum booster per i capelli con pantenolo, ginseng e nico mentil e questi aiutano i capelli fragili quindi a non avere questa fragilità sul capello e a evitare la perdita dei capelli interessante perché io adesso sto cominciando a perdere diversi capelli perché è la stagione delle castagne e in più io comunque ne perdo sempre tanti perché mi si annodano tutti quando faccio le trecine un po' alla romana per contenerle e non avere il volume smisurato e di conseguenza questo genere di prodotto a me va a nozze per il mio tipo di capelli per la prima volta ho un adesivo con scritto free sample non è mai successo e ribadisco che se voi volete trovare una recensione su questo video no, questo video serve uno per lasciarvi nell'info box il link per richiedere il prodotto se siete interessati a provarlo oppure no sono pagando le spese di spedizione dove io non ci guadagno niente è una condivisione che faccio io di questo tipo di promozioni direttamente a voi che state guardando il video o che siete iscritti al canale due, perché in futuro vedrete in azione questo prodotto sicuramente voglio solo citarvi come cambiano queste promo con il passare dei mesi dato che ormai è quasi un anno che sto aderendo alle inserzioni che vedo su Instagram o su Facebook o tramite SMS come succede per Skin Labo aderisco a questo tipo di promo per capire un po' come sono i prodotti è un prodotto che va bene per tutti i tipi di pelle e il marchio ragiona per andare bene con tutti i tipi di pelle 12 mesi di pao il quantitativo è di 50 millilitri non pochissimo ma neanche tantissimo il marchio si trova disponibile online sia in Italia sia in Spagna che anche in Germania se non mi ricordo male perché non tutte le scatoline segnalano dove è possibile ordinare comunque è un marchio che fa vendita diretta solo digitale quindi è proprio il primo brand italiano che si è dedicato alla vendita digitale per evitare tutti i passaggi di mano che aumentano il valore del bene si affidano solo anche a delle promo come queste di pagare solo le spese di spedizione e non il prodotto per non influire sull'acquisto di un prodotto aumentando nel prezzo perché c'è qualche influencer o blogger di mezzo che chiede una percentuale o vuole essere pagata per la pubblicità che fa ecco arrivo io che di pubblicità la faccio a gratis praticamente perché vi segnalo questo tipo di promozione vabbè ma alla fine ci pensa YouTube a pagarmi qualcosina con i video che faccio fortunatamente parlando detto questo vediamo dal allora io vedo tedesco, francese, spagnolo e inglese ma anche l'italiano quindi ci sono un po' tutti i tipi di lingue quelle un po' più succulente e quelle più importanti a livello europeo detto questo, questo è un siero rinforzante capelli una ricca lozione che rinforza il capello dalla radice grazie alla sua azione energezzante sul bulbo non mi ha detto niente vabbè è più indicativo quello che c'è scritto qui davanti ad ogni modo screenshot del sito internet per darvi più spiegazioni in merito e così leggete anche voi che cosa fa effettivamente comunque questo va spruzzato una piccola quantità sul cuoio capelluto e va massaggiato per favorire l'assorbilimento da utilizzare come trattamento una volta al giorno e quando? alla sera? mi sa proprio di sì per quattro settimane sarebbe da fare il test effettivamente per quattro settimane, quindi vuol dire un mese più o meno perché 7,14, 21,28 sì, il mese di ottobre ne avrebbe 31 quindi potrei anche mettermi da domani domani è il 28 no, il 27 di settembre potrei provare a vedere se fa qualcosa oppure no, visto che è quello di Baroque Cosmetics avrei anche quello di Rasayana prima di aprire questo ma quello che mi ispira di questo prodotto è che ha l'erogatore spray ed è molto più comodo rispetto a un erogatore a imbuto quello che aveva, come si chiama, adesso mi sfugge, Baroque Cosmetics altrimenti buona anche la soluzione del contagocce che ha invece Rasayana però il contagocce non vi fa spaccare la goccia invece questo spacca la goccia in tantissime goccionine e potrei apprezzarlo di più Rasayana sarebbe più un olio questo è molto più liquido anche si vede quasi quasi inizierai ad usare l'ultimo arrivato solo per praticità e perché avrei un prodotto così in più terminato per il mese prossimo cosa che mi serve visto che non è che stia tanto finendo i prodotti ultimamente me ne arrivano e li sto comprando parecchi ma smaltisco poco quindi devo impegnarmi un pochettino di più lo lascio fuori perché dovrò fare tutti i close up soprattutto prima dovrò fare il video per Instagram perché ogni volta che prendo queste tipologie di prodotti su Instagram metto sempre un video a riferimento e con tutti i link, tutte le informazioni che servono vi ringrazio per essere passati vi aspetto nei commenti per sapere se avete aderito o se aderirete dal link che vi ho lasciato nell'info box purtroppo ho fatto veramente un video brevissimo ma suc risuc che ci rigira mi sto imbalbettando Skin Labo è il marchio dove io ho veramente preso più prodotti con questo tipo di iniziativa pagando solo le spese di spedizione e posso concludere il video dicendo che sono contenta che magari stiano pensando di valutare altri corrieri per diminuire le spese di spedizione ma anche per loro per le loro vendite online che fanno e di avvicinarci un pochino di più al marchio e loro avvicinarsi ai clienti finali perché se si hanno delle spedizioni leggermente inferiori c'è possibilità di accaparrarsi un cliente in più io solitamente non guardo il costo della spedizione ma guardo con chi spedisci e GLS non ha proprio un bellissimo rapporto devo essere sincera perché non mi è mai piaciuto come mi hanno portato i pacchi a casa mentre poi dopo ci sarebbe Bartolini che anche lui è un po' da stare attenti soprattutto da con Sephora con le palette e per me i migliori rimangono DHL e TNT soprattutto DHL perché c'è possibilità veramente di avere un servizio clienti top non perché ci ho lavorato in passato sappiatelo ma è veramente paghi di più ma è un servizio di qualità sul territorio sempre presente 24 su 24 almeno online e telefonicamente credo la domenica no ma il sabato sì se non hanno cambiato orari e per questo video io la finisco perché più di dire che sono contenta un nuovo prodotto da utilizzare un prodotto che non si vede più di tanto e che ho pagato un euro in meno rispetto a tutte le altre volte successive sono veramente soddisfatta vi ringrazio per essere passati vi mando un bacione ci vediamo come sempre in un prossimo video